Che cosa è il contenuto all'interno di questo libro? Allora, la filosofia che mi ha mosso per scrivere questo libro è di rispondere ad una esigenza molto forte che il mondo scientifico ha, ovvero di spiegare meglio e in maniera più completa a quali rischi siamo soggetti e soprattutto di far prendere coscienza di questi rischi alla popolazione. Purtroppo gli italiani hanno una scarsissima percezione del rischio e addirittura arrivano a negarlo. Così facendo, cioè negando la possibilità che ci possa accadere qualcosa, non prendiamo nessuna precauzione, non ci prepariamo, non preveniamo, non bonifichiamo i nostri ambienti per resistere a eventualmente si dovesse verificare una catastrofe. Da quali tipi di rischi ci si può cautelare in qualche modo? In teoria da tutti, nel senso che i comportamenti virtuosi sono molto simili. Ovviamente ci sono poi delle piccole differenze per quanto riguarda le varie tipologie. La nostra nazione ha finalmente un piano di protezione civile che prevede per ogni comune tutta una serie di comportamenti nel caso in cui ci sia un'emergenza. E a seconda della gravità dell'emergenza sono piani che sono 5, 6, 10 pagine di scritti, però sono effettivamente scritti in burocratese e sono tutto sommato diretti a coloro che prenderanno le decisioni. Il cittadino non le conosce queste cose. Sono state istituite delle aree con diversa priorità, sono aree dove le persone si devono ritrovare in caso di necessità, dove le persone verranno ricoverate in caso di necessità, dove gli aiuti, i volontari, coloro che dovranno intervenire, si dovranno ammassare. Si chiama proprio così ammassamezzona di ammassamento, è un nome un po' brutto. Penso che se andassimo per la strada e chiedessimo quanti cittadini sanno dell'esistenza di questi posti e soprattutto qual è l'azione che devono compiere nel caso in cui si verifichi una situazione di calamità o di emergenza, penso che troveremmo molto buio. Ora io mi chiedo, me lo chiedo anche nel libro, perché nelle scuole insegniamo moltissime attività, l'educazione stradale, l'educazione alimentare e non insegniamo l'educazione a rischio.